Buongiorno e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di TVI, la nostra panoramica sui giornali nazionali e ovviamente regionali che parte dalla prima pagina del quotidiano del Molise che dedica l'apertura a oggi, è un argomento molto importante, molto rilevante, quello relativo all'area di crisi, illustrate le novità, il contenuto degli accordi di programma al vaglio dei ministeri svelati al partenariato, premialità per chi assume lavoratori del posto, questa è la caratteristica principale della misura con il governatore che commenta entro fine anno i decreti di concessione, critici però rimangono i sindacati, a Campobasso la cronaca pugna la compagna e poi cerca di strozzarla, a Roccaravindola migrante tenta estorsione nel centro d'accoglienza, Regione Sanità frattura i piani operativi a breve legge dello Stato, questo l'annuncio, poi ancora cronaca, Isernia incendiate cinque auto nella notte in una discarica, si valuta l'atto intimidatorio, attualità, Chef Rubio, file reporter nel paese delle frane, di taglio centrale la politica con l'assessore Nagni che sceglie Alfano, nel senso che approda in alternativa popolare il ministro degli esteri peraltro a breve sarà anche in Molise Sanità, vaccini record negativo per Ragnone all'ultimo posto per copertura vaccinale. Regione spese dei gruppi, la proposta di legge dei 5 stelle al grido basta sprechi, ieri mattina l'hanno illustrata alla stampa. Ciocca, vigili del fuoco, presentata una mozione per i precari, fa sapere ciocca e poi all'interno frattura ospedali ultima razio, avviciniamo i medici al paziente, questa è la strategia innovativa per rendere la sanità più efficiente e meno costosa. Il presidente a Castel Pretroso ha parlato della riorganizzazione ospedaliere appunto. Presentato l'accordo di programma, il documento per l'area di crisi complessa al vaglio dei ministeri. Premialità per chi assume lavoratori del posto, con frattura che commenta, ora abbiamo quattro bandi, entro fine anno i decreti di concessione, quindi l'iter va avanti, anche se i sindacati rimangono critici. A proposito invece di novità sul fronte politico, l'assessore Nagni sposa il progetto di Angelino Alfano, l'ex IDV, aderito ufficialmente ad alternativa popolare. Mi adopererò affinché altri si avvicinino a questo partito, fa sapere Alfano. Pagina 4, vigili del fuoco, mozione di Ciocca per i precari, presentata in consiglio per stabilizzare il personale già formato e consentire per questa via il rafforzamento dell'organico. È necessario favorire l'applicazione della risoluzione Fiano, commenta Salvatore Ciocca. E poi a Campobasso, ubriaco, sferra pugno in faccia la compagna providenziale all'arrivo della pattuglia dei carabinieri. L'uomo è stato denunciato ma ora rischia il carcere per non aver rispettato l'obbligo di allontanamento. Al lavoro sul nuovo bando del TPU, trasporto pubblico urbano, l'assessore De Bernardo risponde ai sindacati tagli ridimensionati grazie al Comune. Seac, l'amministrazione potrebbe fronteggiare una sforbiciata del 30% per il 2018. E poi un salto alla pagina dedicata a Disernia e all'Interland. Frane e Bagnoli fuoristrada. Giovedì il sitino organizzato da Franco Mastro Donato per protestare per lo stato della viabilità provinciale. Minacciata un'azione eclatante, ovvero la riconsegna delle fasce dei sindaci al prefetto e fino anche le dimissioni in blocco. Rocca ravindola, estorsione al centro migranti. Nigeriano finisce in manette, si rifiutava di lasciare la struttura pretendendo peraltro, mediante minacce di morte, somme di danaro dal direttore. Crediti dal Comune, Koya pronto a presentare il conto. Koya, Presidente dell'ente provincia di Isernia, nei confronti del Comune, il Comune in questione, quello di Isernia se non arriveranno garanzie di pagamento e un dietro fronte sul caso Tari. Si procederà, minaccia Koya, i decreti ingiuntivi. E poi le pagine dedicate a Venafro in curia davanti alla cattedrale alcuni incivili, dopo aver mangiato appena fuori la chiesa, hanno lasciato rifiuti ovunque. La foto è decisamente eloquente. L'assessore all'ambiente Valvona affligge manifesti contro questi gesti indecorosi che purtroppo in città si ripetono sempre più frequentemente. Festività dei Santi Martiri, protagonista la fanfara dell'arma, il sindaco premiato il gioco di squadra tra amministrazione, prologo, comitato e associazione carabinieri. Ed ora un salto in alto Molise, vaccini Agnone Maglia Nera, il distretto sanitario alto molisano infatti è ultimo in Italia, lo rivela uno studio condotto dal sito wired.it, neanche il Molise però nel suo complesso se la cava meglio perché si attesta in una situazione pericolosa a cui porre rimedio. Capracotta domani la festa dell'Ortica che celebra la natura grazie alla prologo, l'associazione Vivere con cura e al comune, ecco l'allestimento di questa iniziativa. E lasciamo il quotidiano per primo piano, area di crisi complessa, presentato l'accordo di programma al partenariato Frattura e Veneziale hanno illustrato alla cabina di regia il progetto di riconversione, pronti quattro bandi per l'auto in piego, l'innovazione tecnologica e i tirocini formativi. Per il Presidente ora si parte davvero, ma la Will è critica, evitiamo interventi a due velocità, all'interno i dettagli dell'intesa con il Mise. In alto Nanni va con Alfano e Di Pietro, benedice la nuova alleanza, l'assessore non è letto in consiglio regionale e resterà in giunta. Il Molise di tutti, ex IDV, gli rinnova la fiducia. Pier Paolo ha fatto una scelta molto intelligente, è l'uomo giusto al posto giusto, così è Cristiano Di Pietro. Montaquila, profugo arrestato dai carabinieri e accusato di tentata estorsione. A proposito ancora di fatti di cronaca, 5 auto a fuoco in un deposito sotto sequestro, è giallo sulle cause. Calce e pugna la ex, nonostante il divieto di avvicinarla, ora rischia il carcere un uomo a campo basso. Tutt'altra notizia nel capologo regionale, concertone, spunta Antonello Venditti come ipotesi, ma Britti resta in pol, non è escluso però il colpo a sorpresa per il concertone del Corpus Domini. Civita Campomarano, chef rubio reporter al Civita Street Fest, realizzerà infatti un corto per una nota azienda che produce birra. Tendenza Macron, Nanni sceglie il partito di Alfano, il ministro degli esteri dà il benvenuto ufficiale all'assessore Molisano insieme per un'area liberale che si contrapponga a populisti anti-europeisti. Questo è una sorta di manifesto, una dichiarazione di intento. Pier Paolo, il sogno del grande centro, mi rivedo in questi valori, l'iniziativa rafforzerà il progetto del governatore affermato. E a proposito di una questione molto sentita in regione, quella relativa all'area di crisi, si parte, pronti quattro bandi finanziati dalla regione, appunto, frattura. Siamo all'attuazione, impegno congiunto per fondi aggiuntivi da destinare alle politiche attive. Boccardo, segretario regionale della UIL, commenta, evitiamo però la doppia velocità. Stop agli uffici periferici pagati con i soldi del gruppo, parlano i 5 Stelle, anzi, più che parlare, presentano un disegno di legge, una proposta, un solo articolo per cancellare alla radice il problema. Ma ora fanno sapere, serve la volontà politica, lo hanno dichiarato Federico e Manzo in una conferenza stampa che si è tenuta ieri e, insomma, la misura punta a modificare la legge quadro che ha consentito a Facciolla e altri inquilini del palazzo di affittare sedi territoriali. Campo Basso, a proposito del concertone del Corpus Domini, Alex Britti e Antonello Venditti, sfida a due per il concerto, appunto, siamo alle battute finali per la scelta dell'artista, la De Capo a mischia le carte, in corsa, fa sapere anche un terzo nome a sorpresa, alimentando la curiosità dei Campobassani. La cronaca le sferra un pugno e tenta di strangolarla, quarantene denunciato, l'uomo non ha rispettato infatti il divieto di allontanamento e si è scagliato contro l'ex compagna, decisivo l'intervento dei carabinieri che hanno bloccato l'aggressore e soccorso la donna. Corsi di sostegno, 880, le domande di ammissione all'università, candidati dal Molise e da quasi tutte le regioni del centro-sud, il 25 e il 26 maggio si terranno i test, le selezioni. Boiano, rendi conto, ramacciato, mette le carte sul tavolo, il responsabile del settore rende nota la sua posizione, intanto il prefetto ha nominato un commissario ad acta. Pagine dedicate a Disernia, guerra dell'Atari, vuole scuse e soldi dal comune, se non salderanno il dovuto partiranno i decreti ingiuntivi, fa sapere. E poi la cronaca con il fattaccio, 5 auto divorate dalle fiamme nella notte, giallo sull'incendio, il rogo è divampato in un'area adibita a discarica abusiva e sequestrata a ottobre. Non si esclude la pista dolosa. Riforma sanitaria, frattura rilancia, l'importanza della medicina sul territorio. Il governatore è intervenuto al VI congresso dell'Arca a Castel Petroso. Pagine dedicate a Venafro, videosorveglianza, in arrivo 39 telecamere, il 25 ultimo sopralluogo prima del via ai lavori, occhi elettronici dunque in città per tenere sotto controllo le aree a rischio. Conservatorio Sorbo apre a Iannacone, pronto a firmare il sindaco disponibile ad ospitare una sezione distaccata dell'istituzione. Tentata estorsione, arrestato profugo 25enne, il giovane pretendeva denaro dal direttore del centro d'accoglienza. Intervento dei carabinieri, in quel di Rocca Ravindola, il nigeriano era stato infatti oggetto di un provvedimento di espulsione. Poi a Termoli, vertenza GTM, a giorni arriverà lo stipendio di marzo. Ieri mattina il summit in municipio tra Ferrazzano e i dipendenti. Con questa notizia comunque positiva lasciamo Termoli e primo piano per una veloce panoramica sui principali nazionali. Iniziamo dal Corriere della Sera. L'inno all'ISIS dell'aggressore e il giovane delle coltellate alla stazione di Milano era stato arruolato da un libico. Inchiesta per terrorismo, parla Tajani, infrazione per i paesi che non accolgono i profughi. E poi la Repubblica. Tutt'altra apertura relativa all'obbligo di vaccini per iscriversi nei nidi e negli asili dopo i sei anni multe pesanti per i genitori obiettori. Parla la Lorenzini, il ministro della Salute. Si potrà valutare la revoca della potestà addirittura come misura estrema. Il giornale La Sinistra marcia e il paese marcisce. Terrorismo islamico e degrado alla stazione centrale. Ma i buonisti, scrive il giornale, fingono di non vedere e sfilano a Milano per chiedere altri profughi. Il messaggero di Roma. Senza vaccini via la patria potestà. 12 profilassi diventano dunque obbligatorie da 0 a 6 anni per iscriversi ad asili e scuole materne. Multe salate di 7500 euro, fin anche per chi manda i figli a scuola fino a 16 anni senza immunizzazione. Corruzione. Sottosegretario Lascia, indagato il governatore Crocetta, il governatore della Sicilia. Trapani, tempesta giudiziaria, Rolex alla Vicare in cambio di favori. Questa l'accusa. E poi lo sport, con il Corriere dello Sport. I Guain sono nato per vincere Voglio Tutto, Scudetto e Champions, poi in Russia i mondiali. Lo ha dichiarato questo ed altro in un'intervista resa ad un giornalista davvero d'eccezione, trattasi di Walter Veltroni. Invece a proposito dell'ex squadra di Guain, il Napoli, i partenopei progettano una notte da record, dal primato legato ai punti alla corsa al secondo posto. Sarri, non ci fermiamo. Intanto la Roma, l'avversaria principale per il secondo posto in casa del Chievo Verona. Bene, era questa l'ultima notizia della rassegna stampa di oggi. Il prossimo appuntamento in diretta con l'informazione di TV Molise alle 14 con il telegiornale. Intanto dalla redazione l'augurio di una serena giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.